Ciao, sono Silvia. In arte Octoply lavoro da molti anni come street artist, ma oltre a quello mi dedico anche ad altri progetti, come ad esempio in collaborazione con Yoku Playing Cards abbiamo creato due mazzi di carte. Ci sono voluti circa 8-9 mesi, praticamente un parto gemellare. Il risultato sono 54 carte per ogni mazzo completamente disegnate da me. Abbiamo scelto di rappresentare questo mondo immaginario in cui tutti possono immergersi e divertirsi nel giocare con queste carte. Rise and Shine è più solare, positivo, con colori brillanti e animali gioiosi, mentre Dusk Till Dawn è più cupo, con personaggi un po' più da brivido. Se ti è piaciuto questo progetto ci farebbe davvero piacere che tu ci aiutassi a realizzarlo, basta pochissimo. Grazie e ciao!